Caffè 24, Radio Genius e Fiasp presentano Podismo Informato. Cari amici di Fiasp Podismo Informato, buonasera a tutti e ben ritrovati da Caffè TV 24, Andrea Gusella e alla regia Davide Maggiolo. Abbiamo in linea l'amico Diego dell'Associazione Podisti Fontanivesi che ci parlerà questa sera del suo evento in programma domenica, la 36esima marcia dei Bartandi, un evento che viene organizzato da un'associazione che è un po' la storia del podismo padovano, uno dei soci fondatori del Comitato di Padova. Saluto Diego Bizzotto, buonasera Diego. Buonasera Andrea, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, una 36esima edizione della marcia dei Bartandi che dietro di sé però nasconde una storia che ha oltre 42 anni, o 43 se non sbaglio Diego. Sì, esatto. Uno dei posti, a mio modo di vedere, a mio modo di pensare, più belli del panorama podistico come scenario, come ambiente padovano, sicuramente lungo le rive del fiume Brenta, uno scorcio del territorio forse tra i più belli che abbiamo nella nostra provincia. Sì, ti ringrazio del commento e confermo perché il corso del medio Brenta è particolarmente interessante perché il fiume è molto largo, quindi ci sono dei boschi a fianco del corso del fiume pieni di sentieri, quindi possiamo fare dei percorsi interessanti per i buddhisti che parteciperanno al nostro evento. La marcia, volevo precisare che è fatta in collaborazione con la Proloco del Paese, che ti dà un supporto per quanto riguarda i vittori, quindi è una parte di sinergia con loro, oltre alle varie associazioni che ci aiutano. I percorsi come gli anni scorsi, abbiamo tre lunghezze, sono di 6, 11 e 21 chilometri e si svolgeranno appunto lungo e Brenta per metà del percorso, abbiamo cercato di fare in modo che ci sia fuoristrada un percorso sempre pianeggiante, sia dei percorsi fatti invece sulle strade bianche oppure strade asfaltate, quindi per chi vuole correre ci interna lo sterrato puro alla strada asfaltata. Avete anche una location tra le altre cose per quanto riguarda proprio la partenza e arrivo della manifestazione, particolarmente interessante no Diego? Sì esatto, è un bosco, si chiama Parco Brenta Viva, che è a sud del ponte stradale, quindi non si parte dal centro del paese, ma appunto da quest'area, che è spostato dal centro del paese di circa 2 chilometri da su Brenta e questo qui ci è agevole perché abbiamo la logistica già pronta, perché ci sono già dei tenoni già stabili, i parcheggi sono ampi, quindi non c'è neanche problema del parcheggio e del traffico perché appunto partiamo direttamente da lì, quindi non abbiamo problemi di incroci o di abilità, quindi abbiamo deciso di sfruttarla in collaborazione anche con l'amministrazione comunale, perché è un'area che va valorizzata anche con questi eventi. Pianamente d'accordo, ritengo come ho detto prima che sia uno dei percorsi dal punto di vista naturalistico, quello in Rival Brenta, uno dei più belli in assoluto che può proporre la nostra provincia, però ci sono molte altre attrattive che sono in quell'area dell'Alta Padovana, che credo meritino di essere sicuramente conosciute, anche Fontaniva stessa no Diego? Sì, abbiamo delle particolarità anche nel nostro paese, ci sono delle ville interessanti, molto quotate come valore storico e anche comunque nel stesso percorso nostro si passa lungo negli argini dove ci sono anche delle case vecchie, case contadine che hanno anche quelle una storia sebbene solo rurale, però insomma anche lì ci sono degli scorci molto belli da vedere. Allora Diego, una considerazione, noi da quando parliamo di Marcia dei Bartandi, sappiamo che Marcia dei Bartandi ha avuto sostanzialmente due cicli di vita, un primo ciclo di vita che l'ha vista protagonista come manifestazione della seconda metà del mese di ottobre. Quando è ripartita ha dovuto chiaramente ricollocarsi all'interno del calendario, è andata a posizionarsi nell'ultima domenica di settembre. Ultima domenica di settembre che lo possiamo vedere già in questa occasione, cioè parlando di domenica 29, ha un particolare affollamento di eventi, perché noi parliamo delle manifestazioni Fiaspa, solo delle manifestazioni Fiaspa del Comitato di Padova, abbiamo la concomitanza di ben tre manifestazioni. È vero che sono distribuite in maniera molto omogenea, abbiamo una manifestazione nell'Alta Padovana, abbiamo una manifestazione nella Bassa Padovana che riguardano sostanzialmente quelle che sono le iniziative del mattino e poi abbiamo una manifestazione meridiana nel cuore del capoluogo. L'anno prossimo chiaramente le domeniche del mese di settembre saranno meno, quindi il rischio di affollamento sarà decisamente importante. Però tutto sommato abbiamo dei dati molto significativi per quanto riguarda delle partecipazioni, chiaramente se la giornata è una bella giornata dal punto di vista meteorologico. Sì, chiaro, speriamo che il tempo sia clemente anche quest'anno, come l'anno scorso abbiamo avuto una splendida giornata di sole, tant'è che abbiamo superato solo per i singoli le 1200 presenze, più le presenze dei gruppi, quindi è stato veramente l'anno scorso un successo per noi inaspettato. Quest'anno speriamo di replicare, appunto al fatto che abbiamo la domenica libera, diciamo, essendo la quinta domenica del mese. L'abbiamo collocata in questo periodo perché, come dicevi tu, se lo dovevamo farlo a metà ottobre non c'era la possibilità perché c'erano già le domeniche impegnate da altre marce qui in zona. Noi l'abbiamo ripresa, questa marcia che era andata a morire verso i primi anni 90 e l'abbiamo ripresa nel 2005, quindi questa qui è la quindicesima edizione del nuovo corso, anche se abbiamo cercato di mantenere l'assetto del vecchio corso. Anche perché dobbiamo ricordare che comunque, diciamo così, dietro podisti fontanivesi c'è un presidente che rappresenta la continuità, tra le altre cose, perché Ivone sicuramente è la storia dei podisti fontanivesi, credo. Ivone, quando l'abbiamo condattato all'epoca, è stato entusiasta di riprendere la marcia, quindi a noi fa piacere averlo ancora come presidente, continuiamo la collaborazione continuamente con lui. Bene, Diego, io approfitterai di una cosa, visto che stiamo parlando della tua manifestazione, anche per ricordare agli amici che da alcune manifestazioni a questa parte abbiamo introdotto una nuova modalità di iscrizione, in particolare per i partecipanti singoli. Non più le registrazioni, diciamo così, dal punto di vista informatico, quindi postazioni con i PC per la registrazione, ma un più soft sistema, diciamo così, di cartaceo, ma che del resto risponde meglio ai requisiti imposti dal GDPR e da altre forme, diciamo così, normative in essere. Ricordiamo quindi che ogni partecipante deve, non tesserato FIASP, deve provvedere a compilare un tagliandino, riportando nome, cognome e date di nascita e consegnarlo all'atto dell'iscrizione. Gli verrà rilasciato il regolare cartellino di partecipazione, questo perché comunque dal punto di vista assicurativo e di certificazione della presenza dei partecipanti è necessario avere comunque un documento in mano. chiaramente il tutto sarà opportunamente segnalato attraverso proprio il posizionamento dei tavoli per la, diciamo così, la compilazione dei moduli e poi dovrebbe essere molto più snella dal punto di vista gestionale la consegna dei cartellini. Mi sembra aver detto tutto, no? Da questo punto di vista. Credo sia caduta la linea. Allora, purtroppo per ragioni tecniche vedo che Diego non è più in linea. Ricordiamo che la manifestazione, la 36esima marzo dei Vertandi, è programmata per domenica 29 con ritrovo appunto nell'area Brentaviva, alle porte di Fontaniva. Il ritrovo è dalle ore 7.30, la partenza dalle ore 8 alle ore 9 e i percorsi sono di 6, 11 e 21 chilometri. Andiamo avanti con il programma delle manifestazioni in provincia di Padova e parliamo della seconda manifestazione invece che è in programma per la mattina di domenica in quella di Este. La manifestazione in questione è una manifestazione dedicata esclusivamente alle donne, per quanto tale è una manifestazione che nasce all'interno del mese del nastro rosa e ha come obiettivo appunto la promozione della prevenzione del tumore al seno organizzata dagli amici del gruppo podistico Corrieste. La manifestazione, la passeggiata in rosa, è una manifestazione organizzata in collaborazione con Manday Run Est e con Corrieste da parte appunto dell'associazione Riprogettare la Vita. Sono percorsi di 5 e 10 chilometri, ritrovo alle ore 9.15 in Piazza Trento per le iscrizioni e la partenza è dalle ore 10. È possibilità anche di sottoscrivere, diciamo così, con un contributo di 10 euro un ulteriore sostegno con la consegna di una maglietta appositamente dedicata. Nel pomeriggio agli impianti sportivi del Cuspadova di via Jacopo Corrado abbiamo invece la sesta edizione della Running Arts. La Running Arts è una manifestazione podistica destinata alla lotta alla violenza contro le donne ed è una manifestazione che avrà come suo scenario di svolgimento la zona degli argini a ridosso degli impianti via Jacopo Corrado. Quindi stiamo parlando dell'argine scaricatore della zona di Volta Barozzo, Terra Negra. I percorsi sono di circa 5 chilometri e 12 chilometri. Il ritrovo è a partire dalle ore 15.30 alle ore 16 e la partenza è alle ore 17. Per quanto riguarda l'iniziativa stessa, ricordiamo che c'è un contributo di partecipazione per andare a finanziare i progetti del gruppo Polis per le donne vittime di violenza e i loro bambini. È un contributo di 10 Euro e verrà consegnato un ricco pacco di partecipazione e una maglietta dedicata alla manifestazione. Per quanto riguarda il calendario della settimana, abbiamo visto che è un calendario particolarmente intenso nel fine settimana. Abbiamo poi la ripresa degli allenamenti collettivi che via via si stanno mettendo in moto. Ricordiamo l'appuntamento, riparte Palloran, mercoledì 2 ottobre dal parco di Bosco di Rubano, parco etronografico, prima uscita della stagione 2019-2020. Programma denso, come sempre, classiche tappe, Rubano, Selvazzano, Mestrino, Ponte Rotto e Brusegana che si alternerà con la quinta uscita e quindi avremo anche questo importante supporto degli amici dei Sonai Runners. L'appuntamento che si protrerà per tutta la stagione fino al 30 giugno. Ultima uscita prevista dovrebbe essere quella del primo luglio, quindi ripartiamo con i motori, ricordiamo tutti i mercoledì. Abbiamo poi i classici appuntamenti in programma settimanali, abbiamo il martedì i Rain Runners a Piove di Sacco che ci propongono il loro training, ritrovo 19.30 a fronte Duomo di Piove di Sacco e al martedì sera l'associazione Mivao, da oggi questa è la nuova denominazione, ci aspetta con Vado di Corsa a Villa Campiello a Campo San Piero. Mercoledì sera, abbiamo detto, riparte Palloran. Mercoledì sera l'appuntamento sempre degli amici della Foreidil a San Giorgio delle Pertiche presso gli impianti sportivi di San Giorgio con Cammina per il tuo Comune. abbiamo il mercoledì sera il tradizionale appuntamento di Corrile Mura Corri a Montagnana e al giovedì sera abbiamo gli appuntamenti di Arzer Grande con la camminata, con ritrovo in centro Arzer Grande verso le ore 19.30 e abbiamo la ripresa delle iniziative per quanto riguarda le attività da parte degli amici del gruppo podistico Cavalli Marini di Chioggia Sottomarina. Ricordo inoltre che per una particolare uscita ci sarà anche venerdì un appuntamento in programma, appuntamento proposto come special edition da parte degli amici Sonai Runners, l'appuntamento è per venerdì 3 ottobre a Brusegana con la Birran, un appuntamento podistico, un allenamento collettivo di circa 5 e 8 km, il ritrovo alle 19.30 presso gli impianti sportivi, gli impianti parocchiali di Santo Stefano di Brusegana e la partenza alle ore 20.30. I percorsi sono di circa 9 km per i runner e di circa 5 km per i camminatori. Come sempre viene richiesto un contributo per il ristoro e la copertura assicurativa dei partecipanti. Per quanto riguarda gli eventi in provincia di Padova direi che abbiamo detto tutto, chiaramente poi ci rivedremo e parleremo dell'appuntamento della settimana ventura, domenica ventura, che ci vedrà impegnati ancora nell'alta padovana, con una delle storiche per continuità più importanti manifestazioni del calendario padovano, che è la marcia sul Brenta dell'Avis Aido Carminiano e la marcia Laudato Si invece che viene organizzata dagli amici del centro parocchiale San Nicola di Taggì di Sotto. Per quanto riguarda lo scenario della provincia di Padova direi che abbiamo detto tutto, per quanto riguarda le manifestazioni invece in programma fuori provincia, sicuramente abbiamo degli importanti eventi, significativi eventi nelle vicine province. Abbiamo da menzionare per questo fine settimana sicuramente a Cagliero la camminata dell'acqua calda di 6, 12, 16 chilometri organizzato dall'attività in programma nel calendario FIASP di Verona. Abbiamo poi a Fontaniva, parleremo poi e non lo dimentichiamo, gli appuntamenti in provincia di Vicenza con la marcia del ringraziamento, marcia del Brentagan di 5, 10, 15 chilometri a Piovene e Rocchetti in provincia di Vicenza. La partenza è dalle ore 7 alle ore 9.30. Per quanto riguarda le iniziative in calendario nelle vicine province dovremmo aver praticamente finito e vi possiamo quindi dare appuntamento per la prossima settimana. Con questo è tutto, un grazie per averci seguito fin qui e buona corsa a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.